Uno dei fondatori della semiotica contemporanea e degli suoi esponenti più popolari è stato Roland Barthes, critico, scrittore, storico della lingua, analista della letteratura, teorico della fotografia, persona di straordinaria sensibilità e ricchezza e finezza interpretativa, diciamo. Ci interessa qui proprio per la vastità, per la grande differenza degli oggetti che prende in considerazione. Barthes ha scritto delle pagine molto importanti su Balzac, ma anche sulla pubblicità, si è occupata dei ciclisti del Giro di Francia, ma ha lavorato sulla civiltà giapponese dei segni, è un teorico importante della fotografia, ma è anche uno teorico della semiotica, dei sistemi di segni, eccetera, eccetera. Quello che è importante è che in qualche modo Barthes ha delimitato con questi suoi interessi un concetto che è quello fondante della semiotica oggi, che è quello del campo semiotico. Cioè la semiotica non si occupa solo del modo in cui il mondo in senso indifferenziato acquista senso, ma cerca di studiare i modi concreti in cui noi diamo senso e quindi siamo influenzati dal senso di diversi tipi di comunicazione. Com'è che il teatro ci fa emozionare in una certa maniera? Com'è che funziona la comunicazione televisiva producendo certi effetti di interesse, di culto? Com'è che lo sport ci mobilita in certa maniera? Quali sono le ragioni per cui la moda, che è un altro grande oggetto di interesse di Barthes, riesce a riprodursi e a produrre degli effetti di imitazione, eccetera, nel corpo sociale? Il cibo, il sesso, la radio, la letteratura, è tutto quello che oggi noi diciamo comunicazione. L'interesse della semiotica si sposta dunque dalla nozione generale di segno al funzionamento dei singoli sistemi di segni, appunto il teatro, la letteratura, la moda, eccetera, e dentro questo al funzionamento dei singoli testi, alla struttura, al modo in cui i singoli testi usano il loro sistema di comunicazione, spesso rovesciandolo, spesso infrangendolo, perché se devono innovarlo lo devono rompere, lo devono cambiare, per riuscire ad attrarre la nostra attenzione, per riuscire a produrre in noi degli effetti di senso significativi, importanti, innovativi, affascinanti, capaci di mobilitazione sociale, di interesse intellettuale, di piacere estetico e così via. Quindi è stato Barthes in qualche modo il primo a fondare l'idea di una semiotica che non è più vicina dal punto di vista filosofico solo alla teoria della conoscenza e alla logica, come nel caso di Peirce, e non è solo vicino alla linguistica per quanto riguarda la sua struttura, come nel caso di Saussure, ma è vicino all'estetica, in qualche modo si pone dei problemi sugli effetti estetici e cerca di risolverli per così dire smontando la macchina, dove il critico di tipo tradizionale, il critico letterario, il critico d'arte, vede degli effetti sublimi che senz'altro ci sono, il semiotico vede una macchina complessa, vede una serie di effetti, vede una serie di dispositivi comunicativi che lavorano a diverso livello e si sforza di smontarli e cerca di mostrare come l'uso che ogni singolo testo fa di questi dispositivi contribuisca al suo successo, al fatto di essere importante, innovativo, esteticamente significativo oppure di essere banale e però capace di mobilitare come una telenovela o come una musica popolare. Questa nozione di campo semiotico, cioè l'interesse per la comunicazione, per i suoi effetti, per la sua efficacia, per il suo modo di influire sul pubblico, è oggi il grande tema della semiotica contemporanea.